Dopo quasi due anni di attesa è arrivata la sentenza del TAR Toscana per quanto riguarda il ricorso avanzato sia da Federalberghi Chianciano Terme che da Società Albergatori Chianciano Terme SRL contro la decisione della Regione Toscana di procedere alla messa e liquidazione delle terme di Chianciano Immobiliare S.P.A. Il TAR non si è espresso nel merito in quanto né Federalberghi né Società Albergatori Chianciano Terme SRL sono legittimati ad agire contro le decisioni della Regione Toscana. Dunque prima ancora del merito si pone una questione di legittimità a ricorrere. Si valuta ora la possibilità di ricorrere in appello al Consiglio di Stato. Sul merito il TAR della Toscana non si è espresso in alcun modo assolutamente deciso e di questo siamo ovviamente molto rammaricati che né come Associazione Albergatori di Chianciano né come Albergatori di Chianciano SRL che è la nostra società che partecipa di Terme di Chianciano avevamo secondo il TAR titolo per presentare il ricorso. Ovviamente questa scelta del TAR non ci convince appieno e per questo stiamo approfondendo con i nostri legali l'eventuale possibilità di ricorrere al Consiglio di Stato. Quale era la parte centrale sulla quale poi non avete avuto una risposta? La parte centrale del ricorso riguardava la scelta della regione di non considerare strategico il settore termale e di conseguenza liquidare e mettere in vendita le proprie quote in particolare nella Terme di Chianciano Immobiliare che è la società proprietaria poi degli immobili e degli stabilimenti almeno della maggior parte degli immobili e degli stabilimenti nonché titolare delle concessioni minerarie e questo dal nostro punto di vista potrebbe creare un grave pregiudizio alla continuità aziendale anche di Terme di Chianciano SPA che è la società di gestione. Ecco, quindi nel merito però non si è pronunciata, la regione del TAR ha deciso di non rispondere? Assolutamente, quindi non c'è nessuna valutazione del merito, è semplicemente una valutazione di procedura e quindi di totalità o meno dei soggetti a presentare eventualmente il ricorso e io credo che una città che vede le Terme come elemento cardine della propria identità che sono tuttora almeno il 30% delle presenze alberchiere complessive dal nostro punto di vista non possono essere in qualche modo considerate staccate dal mondo economico e quindi sostenere che gli alberghi non sono titolati a presentare un ricorso a tutela di quella che per noi è l'economia locale perché la continuità aziendale delle Terme e la presenza dell'immobiliare Terme a Chianciano è un elemento cardine della nostra economia cittadina. Centralissimo direi e quindi ricorso al Consiglio di Stato? Sì, ricorso al Consiglio di Stato aggiungo che come albergatori abbiamo investito anche oltre un milione di euro nelle Terme di Chianciano e il fatto che il TAR non ci veda neanche riconosciuti in quanto azionisti di minoranza della società di gestione titolati a proporre un ricorso che potrebbe mettere anche in discussione il futuro della società di gestione ci sembra una scelta che non faccia giustizia della storia della comunità e della storia dell'imprenditorialità alberghiera a Chianciano è il motivo per cui se ci sono le condizioni in maniera collegiale come albergatori valuteremo se ricorrere al Consiglio di Stato.